segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te domanda è l'ischline a chi si sente più fine a chi si ispira chi le fa più simpatia se è possibile in politica anche utilizzare questa questa espressione da un lato il tentennante schultz dall'altro questo fenomeno tra l'altro molto giovanile e sono i verdi tedeschi ellis line ma guardi io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza al parlamento europeo lavorando all'interno del gruppo social democratico quindi anche delle colleghe dei colleghi del partito socialista tedesco e chiaramente questo non mi ha impedito di lavorare benissimo anche con i verdi europei noi avevamo questa abitudine ed è una bella ispirazione avevamo un progressive caucus all'interno del parlamento europeo dove attorno a temi concreti sulla lotta alle diseguaglianze sul contrasto alla precarietà e su come affrontiamo una conversione ecologica poi è nato il green deal per accompagnare lavoratrici e lavoratori ad assumere nuove competenze e per accompagnare le imprese specialmente quelle piccole medie a innovare i propri processi a ridurre le emissioni lavoravamo perfettamente insieme diciamo poi diciamo più che la simpatia si tratta di trovare consonanza sui contenuti credo che questo ci debba guidare anche nelle alleanze diciamo nel dibattito italiano da questo punto di vista mi scusi la domanda si riferiva ovviamente alle questioni enormi della politica estera e dell'ucraina ci sono due sinistre ci sono due sinistre anche in italia questo questo dice questo dibattito c'è stato non ho dubbio alcuno sin da quando c'è stata l'invasione criminale purtroppo stiamo arrivando all'anniversario di un anno io ho sempre pensato che fosse giusto sostenere il diritto del popolo ucraino a difendersi e quindi di sostenerlo con ogni assistenza necessaria da questo punto di vista certo da pacifista credo pure che non saranno le armi soltanto a porre fine a questa guerra per questo insistevo e voi avete ragione l'unione europea ha mostrato compattezza sul versante delle sanzioni è quello che invece è mancato è il punto più debole e cioè la politica estera di sicurezza comune cioè un protagonismo forte nella relazione diplomatica e politica se dovessi chiedere alle italiane gli italiani che ci stanno ascoltando come si chiama il diciamo l'alto rappresentante per la politica estera di sicurezza comune probabilmente in pochi sarebbe saprebbero che è joseph borrell perché queste voci così come quella di ursula von derlein su questo protagonismo politico e diplomatico si è sentita meno e c'è un motivo è il motivo per cui si attribuisce a kissinger molti anni fa una battuta molto cinica ma molto attuale chissà se l'ha detta davvero che ha detto che per parlare con l'europa ancora non ha capito a chi debba telefonare ecco io vorrei invece una politica estera più europea e così come sono stato d'accordo a sostenere a diciamo la resistenza ucraina invece sono molto contraria all'aumento della spesa militare lineare a cui stiamo assistendo in tutti i paesi europei perché una vera difesa comune vorrebbe dire anche ottimizzare quegli investimenti farli insieme e quindi razionalizzare la spesa europea non aumentarla in tutti i paesi in questo modo senta vengo a